L'e-Play, istituto professionale Edile di Bologna, torna a parlarvi di sicurezza, lavoro, ambienti, tecnologie e tanto altro e lo fa in un modo tutto nuovo. Inizia ora Edile.com, trasmissione ricca di contenuti e curiosità che ruotano attorno al settore delle costruzioni. Per questo avvio di stagione vi presentiamo l'Iple attraverso le voci degli addetti ai lavori, le iniziative per la sicurezza e come viene trasmesso ai giovani allievi il valore del lavoro pratico. L'Iple che cosa fa? Da sempre ovviamente la nostra convinzione è che per poter insegnare la sicurezza non bisogna mai separarla dalla formazione professionale, quindi per me personalmente anche come esperienza ormai da tanti anni come formatore, la convinzione che ho maturato è proprio questa, se si vuole veramente lavorare sulla sicurezza lo si deve fare non separandola dal mestiere e dalla professione ma insegnando insieme a lavorare, a lavorare bene e ovviamente a lavorare in sicurezza. È il modo migliore. Secondo noi il modo migliore per fare la formazione sulla sicurezza è quella di unirla alla formazione professionale e cioè io ti insegno il mestiere e insieme a questo ti insegno anche appunto come lavorare in sicurezza. Un altro secondo filone è di cominciare ad utilizzare le nuove tecnologie, le app, la possibilità di utilizzare persino la realtà virtuale, la realtà aumentata, proprio perché con questi strumenti è possibile anticipare degli scenari e avviverli in modo virtuale appunto per poter evitare poi in cantiere che gli incidenti, anche mortali purtroppo, succedano per davvero. Un altro filone ancora sul quale stiamo lavorando è quello di sensibilizzare i lavoratori alle soft skills, cioè a questioni legate al comportamento, alla comunicazione in cantiere eccetera, che spesso diventano una causa di incidenti anche importanti. Da vent'anni l'IPLE ha attivi percorsi IFTS di formazione tecnica superiore cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e quindi gratuiti, rivolti a diplomati o laureati interessati a formarsi nell'area costruzione, ambiente e territorio. Il corso di quest'anno forma la figura di tecnico di gestione del processo edile specializzato in rigenerazione urbana e manutenzione del patrimonio esistente. Viste le nuove leggi anche regionali che prevedono il consumo di suolo zero, è chiaro che si intende formare una figura che abbia anche questa specializzazione nelle lavorazioni di ricupero e di manutenzione di quanto è già costruito. Abbiamo sempre come partner l'Università di Bologna, le scuole del territorio e le imprese del territorio, tra cui Galileo Ingegneria e ricerche e progetto che collaborano per la parte di docenze. Questo partenariato già consolidato ogni volta contribuisce con attività, ad esempio visite guidate nei cantieri, perché riteniamo che per i ragazzi che non hanno mai avuto esperienza nei cantieri sia un valore aggiunto poter vedere delle lavorazioni in essere. E da lì poter poi spiegare come è fatto un progetto, come si gestisce un cantiere, quali attività devono essere svolte per migliorare l'aspetto organizzativo di un processo edile. Il percorso vede una parte importante di formazione inerente il BIM. Ci sono delle parti che sono incentrate sull'efficientamento energetico degli edifici e trattiamo sempre una tematica che difficilmente si riesce a cogliere in percorsi formativi che è quello del facility management, proprio perché intendiamo dare uno sbocco quanto più ampio nel settore delle costruzioni che è così complesso e così articolato. L'istituto professionale edile non è solo un ente istituzionale e non è solo una scuola, ma molto, molto di più. È comodamente raggiungibile in auto, soprattutto per chi proviene da autostrade tangenziale e anche in autobus, avendo proprio davanti la fermata della linea 25 che attraversa il centro città e la stazione dei treni. È inoltre dotato di un ampio parcheggio gratuito e della colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Tutto questo concorre a fare dell'IPLE un ente attento prima di tutto alle esigenze dei corsisti e di chi frequenta la scuola, che rappresenta un punto di forza e un'eccellenza sul territorio metropolitano, dove opera da 73 anni nella formazione e nell'aggiornamento di giovani e professionisti del settore. Collaborando con università e istituzioni, l'IPLE crea una fitta rete per la salute e la sicurezza sul lavoro, che è il valore primario. Riprende la rubrica dedicata agli edifici più belli, particolari, ma anche intelligenti e sostenibili e che voi da casa contribuite a creare con le vostre domande e i vostri suggerimenti. In questa prima nuovissima puntata, il nostro architetto ci parla dell'edificio più sostenibile del mondo, The Edge, ad Amsterdam. Si tratta praticamente di un edificio di più di 40.000 metri quadrati, dove ci sono insieme varie tecnologie per il risparmio energetico e addirittura è un edificio che, dal punto di vista energetico, è attivo, cioè consuma meno di quello che produce come energia. In una facciata, quella a sud, ci sono dei pannelli fotovoltaici ben nascosti, mentre sulla copertura ci sono, complessivamente, più di 4.000 metri quadrati di fotovoltaico. Oltre a questi c'è un sistema intelligente di raccolta delle acque e di utilizzo, non solo per l'irrigazione dell'area verde attorno all'edificio, ma anche per gli scarichi interni all'edificio, così come un sistema geotermico che utilizza proprio l'accumulo stagionale di energia nel sottosuolo, a 130 metri di profondità. Il bello, però, dell'edificio è il suo interno, non solo da un punto di vista della vivibilità e dell'aspetto architettonico, ma anche nella modalità di gestione. È un luogo dove lavorano tanti impiegati, ma non c'è un posto di lavoro fisso. E le persone, quando arrivano, gestiscono la loro presenza e interagiscono con l'edificio attraverso una app nel loro cellulare. Scelgono la postazione di lavoro e automaticamente possono gestire l'illuminazione, la temperatura, quindi tutti i parametri di comfort ambientale, appunto. È un edificio precursore dell'architettura. Ci sarà sempre più tecnologia e sostenibilità negli edifici. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa-idili.com Cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo è anche la qualifica gratuita IFP, istruzione e formazione professionale, rivolte ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, che vogliono intraprendere una strada pratica. Vediamo nel dettaglio perché l'IPLE non è una scuola tradizionale e qual è la sua offerta formativa. Potete vedere che in questa scuola non si fa solamente muratura, ma si fa cartongesso, si fa decorazione, si fa imbiancatura, si fa piastrellatura, perché l'edilizia è un mondo enorme. Per esempio insegniamo ai nostri ragazzi a utilizzare un drone, una stampante 3D, uno scanner 3D per il volto, partecipiamo a attività sul territorio importantissime dal punto di vista delle nuove tecnologie legate all'edilizia e è fondamentale per noi che i ragazzi facciano esperienza sul campo. Quindi la differenza enorme con la scuola tradizionale è che i ragazzi possono andare in aziende, in aziende edili di vario tipo, per sperimentarsi direttamente sul campo. Provano l'esperienza edile direttamente nei nostri laboratori costruzione, che sono laboratori di mille metri quadri, per cui iniziano già a fare esperienza. È una scuola molto pratica. Qui stiamo simulando una piccola casa dove all'interno però ci sono tutti quegli elementi che formano una casa reale. Quindi dalla struttura, dalla parte strutturale, alla parte di muratura di tamponamento, l'impiantistica e poi tutte le finiture, intonaci, sottofondi, pavimenti, rivestimenti e se ci riusciamo qualche mano di tinta. All'interno di questo percorso questi ragazzi hanno questo biegno di formazione nel quale c'è molta sicurezza come materia prima, oltre che il corso obbligatorio per la formazione dei lavoratori. Fanno questo corso di pianti cadute, di corso antincendio. Man mano che crescono, durante il percorso, si nota questa loro attenzione alla sicurezza. Inizialmente come un'imposizione curricolare da corso, poi reagiscono, reagiscono perché si rendono conto durante gli stagio, anche nel quotidiano, che incominciano a vedere proprio i comportamenti scorretti alla base degli infortuni e incidenti. Li portiamo ad analizzare casi veri attraverso video, filmati, discutiamo di qualcosa che hanno letto su un quotidiano o alla tv. E un po' alla volta vediamo crescere. Dal secondo anno al terzo anno maturano tantissimo. Prendono la scuola all'inizio come un obbligo, perché questo è il loro senso, poi parteciparono in modo molto attivo alla formazione. Il lavoro che fa Iple è il lavoro che dovrebbe fare l'impresa una volta assunti questi ragazzi. Quindi dovrebbe formarli in relazione alla sicurezza, in relazione all'organizzazione di cantiere, in relazione alle caratteristiche dei materiali e a come si adoperano questi materiali. Quindi tutto questo lo fa Iple e per l'impresa è un grosso vantaggio. Quest'anno abbiamo vinto un progetto europeo di Erasmus+, dove i ragazzi potranno andare a Siviglia, quindi in Spagna, a fare un'esperienza di lavoro. Credo assolutamente gratificante. Questo è un progetto che abbiamo vinto per un lungo periodo, quindi ci sarà anche l'anno prossimo. Quindi i ragazzi nuovi che verranno in questa scuola potranno usufruire di questo vantaggio. Quindi i migliori verranno selezionati per poter fare un'esperienza di un mese di stage all'estero. Le foto che vedete, che avete appena visto, testimoniano che nei nostri percorsi i ragazzi si sentono un po' a casa. La casa è il nostro simbolo, siamo edili, per cui la parola casa è un concetto importantissimo. Vogliamo che i ragazzi entrino qui e si sentano bene, perché l'apprendimento, l'imparare, è agevolato dallo stare bene. Quindi cerchiamo di fare attività sul territorio, attività a scuola, che possono essere gratificanti. Li portiamo a vedere mostre, musei, li facciamo esplorare la città, facciamo conoscere Bologna come città d'acqua, città sotterranea, ma partecipiamo anche a campionati di calcio, piuttosto che a progetti di decorazione, murales. Collaboriamo con altre scuole, per cui vengono altri centri di formazione qui e collaborano con i nostri ragazzi per fare, non so, un impianto elettrico dentro una casa, per capire che se non c'è collaborazione nel mondo del lavoro, non si va poi tanto avanti. Costruisci il tuo futuro, diventa operatore edili alle strutture. Visita edili.com per essere costantemente aggiornato e se vuoi iscriverti alla scuola per il prossimo anno scolastico, ci sono ancora alcuni posti, per cui contattaci allo 051 32 76 05 per avere maggiori informazioni. Ciao! Martedì 10 marzo parte una nuova edizione di BIM Academy Bologna, nella pratica professionale di tutti i giorni. Un primo approccio. Giovedì 12 marzo ha inizio il Laboratorio Marketing Immobiliare Digitale, Laboratori del Fare. Mercoledì 18 marzo, formazione e sicurezza dei lavoratori del settore costruzioni, rischio alto. Grazie a tutti,